Ultima amichevole per la tono calipo Calabria Vibo Valencia, prima dell'esordio in campionato di domenica prossima. Al Pala Valencia i giallorossi hanno avuto la meglio sull'Auris Pallessano con il punteggio di 3-1. In realtà il match è terminato 3-0, 25-11, 26-24, 25-15 parziali. E' stato deciso poi di far giocare un quarto set per dare spazio alle seconde linee, quest'ultimo vinto dagli ospiti 25-17. Dunque un buon test per coach Mastrangelo che ha dovuto fare a meno del palleggiatore Pinelli, che resta in dubbio per l'esordio in campionato, ma ha trovato per la prima volta Peter Mikalovic. Devo essere sincero, la squadra mi è piaciuta molto, perché? Perché abbiamo giocato molto bene nel primo set, loro molto male chiaramente, perché i meriti comunque stanno sempre anche nei meriti degli altri. Però noi abbiamo sbagliato proprio poco, fatto bene muro, difesa, contraattacco, abbiamo giocato molto bene. Poi il secondo set loro sono cresciuti molto in battuta, ci hanno messo in difficoltà, ci hanno riagganciato. E' stato un bel set perché sono momenti che servono alla squadra per arrivare al 24 pari e poi giocarsi ogni palla vale un set. L'abbiamo vinto, poi abbiamo di nuovo ridominato il terzo, ancora, quindi niente, ho visto della bella roba. Chiaramente siamo all'inizio dell'anno e c'è ancora tanto da lavorare. Sono le classiche cose che si dicono, ma è la realtà, non è per dirlo. Adesso ci facciamo quest'altra settimana di lavoro, considerando il fatto che fra otto giorni si inizia a ballare la samba. Grazie. Grazie. Grazie.